Trovandomi nell'impossibilità in questi giorni di proseguire la lettura di Paolo Diacono, ho pensato di andare alla ricerca di una trattazione di un paper che fosse rilevante per quanto riguarda l'ambito Longobardo e che oltretutto mi interessasse e oltretutto che potessi leggere ad alta voce, perché grazie al progetto di Reti Medievali questo paper è in Creative Commons. Ora, dato che è Creative Commons, devo ovviamente parlare dell'autore. L'autore è Claudio Azzara, uno storico che ha scritto alcuni libri a proposito del periodo Longobardo, uno fra questi era anche all'interno del nostro sillabo di storia medievale per l'anno accademico 2018-2019 a Bologna. E appunto Claudio Azzara ha scritto questo Parma nell'Emilia Longobarda, che credo possa essere molto interessante, credo vi possa interessare, ed è una bella cosa da avere in questo periodo ancora festivo. Soltanto un attimo e partiamo quindi con la lettura. I Longobardi e l'Emilia La stirpe dei Longobardi penetrò nella penisola italiana, attraverso il suo confine nord-orientale, nell'anno 569, guidata dal re Alboino. Essi provenivano dalla Pannonia, fino a quel momento ultima tappa per loro di una plurisecolare migrazione partita dall'estremo nord del continente europeo, e si riversarono alla ricerca di migliori condizioni di vita in un'Italia che, sebbene prostrata dalla quasi ventennale guerra vinta dall'impero sui Goti, si offriva pur sempre come un paese ricco e perciò appetibile. La conquista del suolo italico da parte dei nuovi arrivati si svolse, almeno nei primi tempi, in un modo tanto traumatico per la popolazione romana ed eversivo dei vecchi ordinamenti, quanto disordinato e incoerente sul piano territoriale, svolgendosi per iniziative di bande di guerrieri che agivano sotto la guida dei propri capi militari, con sostanziale autonomia rispetto alla ridotta capacità di coordinamento dell'autorità regia. Il numero complessivamente esiguo dei Longobardi, il desiderio o la necessità di evitare di scontrarsi con le piazzaforte nemiche meglio difese, la debole pianificazione della campagna di conquista, produssero una distribuzione disomogenea degli insediamenti, con un'evidente concentrazione nelle regioni dell'Italia centro-settentrionale, ma con esclusione della costa idriatica e tirrenica, eppure di molte enclaves nell'entroterra. Nel centro-sud vennero presi lo Spoletino e il Beneventano, separati peraltro dalle terre sotto il controllo Longobardo del nord, dalla persistente presenza imperiale lungo l'asse Ravenna-Roma. Anche nelle regioni in cui riuscirono ad acquisire posizioni di predominio, i Longobardi si limitarono, almeno nei primi tempi, a occupare singole località dotate di uno specifico rilievo strategico per il controllo militare del territorio, e soprattutto delle grandi arterie di collegamento a formare una carta geopolitica complessiva a pelle di leopardo, piuttosto che distinta in blocchi di dominio coerenti e seccamenti opposti. Questo è anche il motivo per cui, qui sto parlando io ovviamente, non a Zara, questo è anche il motivo per cui quando vedete le famose mappe, le cartine con i bei confini definiti tra regno dei Longobardi e impero romano, insomma in realtà la questione è, anche se viene specificato di solito nei famosi testi delle Medie o delle Superiore, che il dominio era macchia di leopardo, in realtà la questione è ancora più approfondita, dobbiamo toglierci dalla testa i confini dove classicamente, io ho questa memoria, i Longobardi sono colorati di viola e i romani di giallo. Bisogna assolutamente togliersela dalla testa perché non funziona così. L'ambito territoriale che corrispondeva all'antica provincia romana dell'Emilia, coincidente in buona sostanza con l'Emilia odierna, fu investito dall'onda dell'invasione Longobarda sin dai primi tempi della loro diffusione nella penisola. Già durante i regni di Alboino e del suo successore Clefi, o al più tardi durante il decennio del cosiddetto interregno ducale, cioè nel periodo di vacanza del potere reggio Longobardo dal 574 al 584, una volta attraversato il Po dopo aver preso Pavia, i Longobardi occuparono le civitates di antica tradizione di Piacenza, Parma, Reggio e Modena, con i territori da questi dipendenti. A questa stessa epoca, probabilmente negli anni 70-80, cadde nelle loro mani pure Imola. La corretta datazione di simili conquiste resta sempre disagevole per la penuria di indicazioni precise, ma pare confermata anche dai ritrovamenti di sepoltura Longobarda e della fine del VI inizi VII secolo attorno a Modena e a Dimola. Recentissimamente, proprio in questi anni, è stato anche ritrovato un sito di sepoltura a pochi passi da dove abito, durante i lavori per la costruzione di uno svincolo di una tangenziale. E' stato scoperto, mappato con apposite strumentazioni, appositi lavori, e poi è stato ricoperto di terra. Quindi è lì sotto, sappiamo perfettamente dov'è, ma purtroppo non lo si può più vedere se non in foto. Non ho idea della datazione, non ho idea se sia stato datato o se non sia ancora stato datato. Mi informerò, mi piacerebbe saperlo. Circa, e ovviamente io abito nella zona parmense, circa due secoli più tardi, Paolo Diacono citava ancora tutti questi centri come quelli che caratterizzavano la regione emiliana, sottolineandone pure la notevole pulenza. Peraltro, tra gli apprezzamenti sembrano essere più la ripetizione di cliché letterari, magari ricalcati da fonti di età romana, che è una discrezione appropriata della situazione della Longobarda. Di fronte al dilagare dei Longobardi e al loro progressivo stanziamento, la reazione dell'impero fu insufficiente, in gran parte a causa della distrazione costituita dalle più pressanti emergenze su altri fronti, i persiani in oriente e gli avari nella regione balcanica, dove si dovevano concentrare allora truppe e risorse. Tuttavia si produsse alla fine del VI secolo uno sforzo di consolidare la propria posizione in Italia attraverso un riassetto politico, amministrativo e militare, che si incentrò sulla figura dell'Esarca, un magistrato con sede a Ravenna, che riunì in sé tutto il potere civile e militare, al fine di garantire una maggiore saldezza di comando di fronte all'emergenza. Ravenna divenne così il centro della resistenza e della controffensiva contro i Longobardi. Il primo Esarca, attestato con certezza dalle fonti, Smaragdo, di cui abbiamo parlato durante la lettura di Paolo Diacono, in carica dal 585, se per recuperare classe e breccello. Sono questi gli avvenimenti descritti nel libro terzo. Mentre il suo successore romano, a cui non siamo ancora arrivati, si rese protagonista di una vasta e fortunata iniziativa che sfociò nel 590 nella riconquista di Modena, oltre che fuori regione delle città rilevanti di Mantova e Altino, con l'aiuto di mercenari franchi. In quel frangente i duchi Longobardi di Piacenza, di Parma e di Reggio trovarono accordi con l'impero e passarono alle sue dipendenze dietro pagamento di un soldo secondo una prassi che era tutt'altro che infrequente e che confermava la debolezza strutturale del regno Longobardo, in cui i singoli capi militari conservavano una notevole libertà di iniziativa rispetto al re e non esitavano nemmeno all'occorrenza a tradirlo per il proprio vantaggio. Di una simile condotta esempio, per limitarsi a un solo caso tra molti noti e di area emiliana, il duca Drog Tulfo di Brescello, anche qui eventi del libro terzo, il quale in anni precedenti aveva preso le armi contro il re Autari, obbligando quest'ultimo a un lungo assedio della città che, una volta caduta, subì il totale abbattimento della propria centamuarie. Con il regno di Agilulfo, dal 591-615, a cui siamo arrivati durante la lettura, la stipula di diversi armistizzi tra il monarca Longobardo e l'esarca, a romano succedesse Roccallinico e poi di nuovo Smaragdo, stabilizzò il quadro territoriale. Agilulfo mosse contro i duchi che avevano disertato, riacquistando anche il controllo di Parma, sicuramente in sue mani nel 601-602, con tutto il suo territorio. I pericoli maggiori per l'esarcato derivarono almeno fino agli anni 40 del VII secolo, piuttosto che dalla minaccia Longobarda, dalle turbulenze interne, specie con le lotte scatenate dagli usurpatori Giovanni di Conza e dell'Euterio. Un mutamento significativo degli aspetti della regione emiliana si ebbe invece con le campagne condotte dal re Rotary, a partire dall'anno 643, con il fine non tanto di espandere territorialmente il regno, quanto di consolidarne i confini esterni. Oltre ad assicurarsi il pieno controllo delle coste liguri e a far capitolare nella Venezia la roccaforte imperiale di Oderzo, che ostacolava i collegamenti tra i Longobardi del Veneto e quelli del Friuli, Rotary attaccò pure in Emilia, riportando una vittoria sul Panaro che gli permese di riprendere una volta per tutte Modena e di stabilizzare la frontiera con l'esarcato più a destra, facendola coincidere proprio con il corso di quel fiume. La battaglia nella quale cade ucciso lo stesso esarca Isacio venne trattata alla fine del mese di novembre dell'anno 643. Le fonti indicano il fiume presso il quale essa ebbe luogo con il nome di Scoltenna, denominazione del tratto superiore appenninico del Panaro. Un successore di Rotary, Cuniperto, almeno secondo la testimonianza del componimento noto come Carmen de Sino d'Otticinensi, avrebbe sul fine del secolo restituito la semi di ruta Modena al suo antico splendore, con interventi di decoro edilizio che peraltro restano imprecisati e che potrebbero in verità rispondere più a moduli letterari consueti in opere che a realizzazione effettiva. Le ulteriori evoluzioni del quadro politico-militare della penisola italiana, verificatesi nel corso del VII secolo con lo svolgersi di due processi contemporanei e opposti di rafforzamento del regno Longobardo e di indebolimento delle pertinenze imperiali, furono la radice di un ultimo disegno perseguito dai rai Longobardi del tempo con consapevolezza e costanza, la conquista di Ravenna e l'eliminazione dell'esarcato, ultimo cunio imperiale nel corpo del regno. Nel 717, re Liutprando prese classe già temporaneamente occupata in precedenza dal duca di Spoleto, Faro Aldo II e negli anni 726-727 vennero conquistate pure diverse altre piazzaforte regionali, tra cui Bologna e molti centri della regione imperiale nota come Pentapoli, estesa sulle odierne marche. Il progressivo accerchiamento di Ravenna si completò con una prima occupazione della città nel 740 ad opera del nipote di Liutprando, il Deprando, e del duca di Vicenza, Peredeo. Solo con l'intervento della flotta dei Venetici, presso i quali si era rifugiato l'esarca Euticchio, consentì il recupero della capitale esarcale, salvata tre anni dopo dalla mediazione del Papa Zaccaria, che cedette in cambio a Liutprando Cesena, Forlì in Popoli e Forlì. Nel 750 però, né il ponte edificio, né l'eventuale soccorso di altre forze imperiali, poterono evitare a Ravenna la definitiva capitolazione nelle mani di Re Astolfo, che già aveva guadagnato Ferrara e Comacchio. L'evento spinse, come è noto, il Papa Stefano II a ricercare l'aiuto contro i Longobardi dei Re Franchi, con un'opzione che sarebbe stata gravida di conseguenze per la storia dell'intera penisola. Un trotto indubbiamente... Scusatemi. Capitolo II L'Emilia Longobarda, una terra di confine. Un trotto indubbiamente connotante dei territori emiliani all'interno del regno Longobardo fu l'essersi proposti quale area di frontiera rispetto all'esarcato di Ravenna, centro politico-amministrativo della presenza imperiale in Italia. I temi della configurazione e del concreto funzionamento dei confini nell'Alto Medioevo appaiono oggi tra quelli di più vivo interesse per la ricerca, che può avvalersi anche del contributo di campagne di scavo archeologico sempre più mirate e organiche. Il regno Longobardo acquisì una più matura coscienza dei propri confini, certamente verso l'esterno, ma anche in rapporto alle proprie articolazioni interne, e della necessità di definirli e di difenderli solo in modo graduale, a mano a mano che si fece più consapevole di una configurazione territoriale ordinata dello stesso. Verso l'esterno le frontiere furono protette e il loro funzionamento venne regolato con apposite leggi che disciplinavano l'ingresso degli stranieri nel regno. Nel cruciale arco alpino, barriera di separazione rispetto a stirpe ostili e pericolose, i franchi occidenti, gli avaroslavi a oriente, si riutilizzavano le strutture fortificate costruite dal tardo impero romano e i re impiegati in seguito pure dagli ostrogoti. in particolare le chiuse, cioè i valichi alpini fortificati, rappresentavano il diaframma che filtrava l'entrata degli stranieri, i quali dovevano essere accuratamente esaminati e dotati di un salvacondotto da esibire in caso di ulteriori controlli, una volta fatto ingresso nel regno. All'interno furono soprattutto le diocesi a produrre per primo uno sforzo di disegnare con sufficiente precisione i limiti delle proprie circoscrizioni, non senza aggiungere ad aspre controversie fra diocesi limitrofe come nei casi testimoniati dalle fonti dei contenziosi che opposero il vescovo di Arezzo a quello di Siena oppure il presolo di Lucca a quello di Pistoia sin dalla metà del settimo secolo. Una maggiore difficoltà nel tracciare le linee di confine sicuro a causa dei problemi posti dall'accentuata compenetrazione socio-economica si verificò in rapporto alle partizioni di natura politico-amministrativa del regno. Un esempio al riguardo viene offerto proprio dalle cività test di Parma e di Piacenza che si scontrarono alla metà del settimo secolo in una fiera lite confinaria risolta solo al termine di una lunga e laboriosa inchiesta. Per risolvere la querelle si dovete fare ricorso alla testimonianza di porcari e di non meglio precisati anziani signore somines vale a dire di quegli individui che per le necessità del proprio mestiere e per l'esperienza personale erano i più abili nel riconoscere i molteplici segni di confine presenti nelle campagne a delimitazione delle diverse aree di proprietà e di dominio e che quindi erano in grado di aiutare a stabilire la dislocazione del confine tra le pertinenze delle due città. Per quanto le informazioni sulla frontiera tra il regno Longobardo e le province imperiali siano inevitabilmente ancora parziali e necessitino quindi di integrazioni e conferme il dato generale che sembra emergere dagli studi cinque condotti suggerisce comunque come almeno fino alla metà del settimo secolo le confinazioni non possano affatto essere percepite quale rigidi barriere poste a separare entità politiche dalla conformazione territoriale omogenea e ben definita ma vadano percepite piuttosto come fasce fluttuanti di controllo politico militare flessibili e in sostanza permeabili. I contesti indagati quali quello della Venezia quello della Tusce e del Ducato di Roma e quello Emiliano Romagnolo indicano confini che una volta superati i momenti di più viva emergenza militare si dimostravano sostanzialmente aperti alle frequentazioni tra gli uomini dei diversi ambiti e agli scambi di merci e di modelli culturali. Precedentemente alla ricordata vittoria di Rotary sul Panaro il Limes Longobardo esarcale doveva collocarsi in territorio modenese tale confine resta di difficile ricostruzione per la laconicità delle fonti scritte e doveva forse dimostrarsi relativamente instabile per contro alla più strutturata fascia limitane settentrionale tra il regno ed esarcato attestata sin dall'inizio del secolo VII lungo l'antico corso del Po e protetta da una serie di castelli appositamente eretti dai bizantini. Le più recenti indagini archeologiche inducono a ipotizzare la conquista da parte di Agilulfo non solo di Parma e di Piacenza ma anche di Reggio e di conseguenza hanno spinto a porre nel modenese anziché nella zona di Parma e Guastalla come si credeva in precedenza la frontiera agli inizi del VII secolo fra l'ambito Longobardo e quello imperiale una sorta di area a cuscinetto che sarebbe stata contraddistinta da una forte turbolenza riflessa in una situazione di pesante crisi politico-istituzionale ed emico-insediativa della regione. La bipartizione politica dell'Emilia tra i Longobardi e l'impero con il progressivo consolidarsi proprio nel cuore dell'antica provincia del confine tra i territori del regno e quelli esarcali non potendo riflettersi anche sul sistema aviario costretto a trasformazioni e orientamenti diversi rispetto alla configurazione ereditata dall'epoca romana al fine di adeguarsi alla nuova situazione e di soddisfare le mutate esigenze. Un tale processo fu ovviamente condiviso anche da altre aree della penisola ugualmente segnate dalla cesura tra le differenti dominazioni come ad esempio nel caso ben studiato della vicina Venezia. Gli imperiali si preoccuparono in primis di salvaguardare il vitale collegamento tra Ravenna e Roma che veniva ora assicurato dalla via Armerina e non più dalla vecchia Flaminia interrotta a Spoleto. Inoltre cercarono di mantenere uno sbocco attraverso l'Appennino in direzione della costa Tosco-Ligure ancora in loro possesso almeno fino alle campagne di Rotary oltre a conservare l'antico percorso costiero Alto Adia Alto Adriatico che passava attraverso le lagune Venetiche univa l'Istre a Ravenna. I Longobardi d'accanto loro per raggiungere dalla pienura padana alla Tuscia i ducati di Spoleto e di Benevento valorizzarono progressivamente soprattutto tra il VII e l'VIII secolo una via transappenninica mediana rispetto alla Cassia e all'Aurelia che versavano entrambe in uno stato di grave crisi per gli estesi fenomeni di spopolamento e di impaludamento delle aree da loro attraversate come conseguenza delle devastazioni della lunga guerra fra i Goti e l'Impero. tale strada nota come strada del Monte Pardone saliva da Parma al passo della Cisa a Berceto importante stazione prima del passo del passo Liutprando fece erigere un monastero ovvero similmente sfruttando fondazioni anteriori e da qui discendeva fino a Pontremoli per mettere quindi nelle regioni dell'Italia centrale fino a Roma ben presto utilizzata e in misura via più crescente con la nera del tempo anche dai pellegrini ma non certo solo da essi che dalle regioni d'Oltralpe si recavano nella città di San Pietro la via del Bardone era destinata a conoscere uno straordinario sviluppo nell'epoca immediatamente posteriori divenendo celebre con il nome di via francigena via francigena perché portava in Francia ovviamente è chiaro che in alcune fonti o comunque in alcune trattazioni l'ho sentita chiamare anche via Romea perché se porta a Roma si chiama via Romea qui viene chiamata via francigena c'è anche una nota la nota 8 la bibliografia la posterò posterò in descrizione il link con il pdf da scaricare così potete leggere e consultare le note la dualità Emilia-Longobarda territori esarcali si presta come laboratorio di verifica di un altro nodo storiografico di primaria importanza per la ricostruzione degli assetti dell'occidente alto medievale quello della continuità della vita cittadina tra il tardo impero romano e i regni del primo medioevo in una consolidata tradizione di studi proprio l'età Longobarda è stata colta quale momento di forte discontinuità nella vita dei centri urbani in Italia intravedendo in essa al verificarsi di significative trasformazioni nelle strutture materiali e negli equilibri idemici il dibattito tutt'oggi vivace arricchito dai nuovi contributi che vengono dall'archeologia appare complicato dalla pluralità degli approcci e delle prospettive di indagine diversamente assunte potendosi appuntare l'attenzione di volta in volta sugli ordinamenti politico-istituzionali piuttosto che sulle espressioni dell'attività economica sulle rappresentazioni della cultura piuttosto che sugli assetti architettonici materiali per le regioni attraversate dal confine tra il Regno Langobardorum e le province dell'impero si postula in genere una divaricazione nei destini urbani fra la porzione Longobarda che avrebbe subito un sostanziale declino nei contesti cittadini con la disaggregazione del vecchio assetto municipale romano e la crescente autonomia delle circoscrizioni rurali e quella imperiale in cui si vuole vedere invece una maggiore tenuta delle città capaci di rimanere il centro della vita amministrativa sociale e politica e il nucleo di organizzazione del territorio circostante un esempio di tale interpretazione per contrasto di modelli alternativi è dato dal binonimo binomio appositamente studiato Piacenza Longobarda e rimini imperiale in realtà classificazioni tanto rigide vengono rampiamente riconsiderate e si tendono a smussare le differenze sottolineando piuttosto i tratti evolutivi comuni insomma sia per un tema quale quello del confine sia per il motivo della continuità della vita urbana entrambi attualmente dispiccati di interesse critico l'area emiliano-romagnola dei secoli VI-VIII si offre come laboratorio di indagine particolarmente stimolante capitolo terzo Parma-Longobarda le testimonianze disponibili per Parma e il suo territorio in età Longobarda sono complessivamente assai scarse sovente perciò le ipotesi sulla fisionomia della città in quell'epoca sono state costruite per derivazione da schemi generali o per deduzione da quadri anteriori oppure appartenenti ai secoli successivi in ogni caso la documentazione del periodo Longobardo informa un po' meglio sui contesti rurali limitrofi che non sul centro urbano come fanno le già ben studiate carte di Varsi a loro sopraggiungere i Longobardi trovarono nella Civitas di Parma una realtà di antica tradizione romana venne costruita quale colonia di diritto latino nel 183 a.C. che era stata pure sede a quanto se ne sa di un'intensa presenza gota le fonti databili al regno di Teodorico suggeriscono il verificarsi nel centro emiliano di significativi interventi edilizi quali il restauro del locale acquedotto romano un edificio rettangolo l'acquedotto romano che dovrebbe essere quello sotto al ponte oddio sotto al ponte di Via Repubblica oddio cos'è il ponte centrale non mi ricordo più che è attualmente visitabile tramite un sottopassaggio è un posto molto molto carino molto molto suggestivo un edificio rettangolare in due navate costruito con materiale di spoglio portato alla luce a Borgo Santa Brigida è stato pure attribuito in via ipotetica all'età gota da notare che il Parmense venne prescelto quale zona di insediamento anche da molti degli immigrati nella penisola al seguito di Carlo Magno dopo il 774 a riprova della valenza strategica e territoriale della città sempre soprattutto per quella storia di cui abbiamo parlato anche qui della via francigiana l'indagine archeologica su Parma Longobarda ha visto fissare la situazione dei ritrovamenti novecenteschi in occasione di una mostra con pubblicazione del relativo catalogo ai primi anni 90 lo scavo più notevole è stato quello della necropoli scoperta nel 1977 nei pressi di Collecchio sulla riva destra del Taro ad ovest del centro urbano datato al VII secolo e comprendente 58 sepolture ora questo posto sembra terribilmente il posto di cui abbiamo di cui vi ho parlato poco sopra cioè sembra il posto di fianco a casa mia non vorrei quindi che sia stato scoperto due volte non sapevo di questa scoperta del 77 ok perfetto per il resto si segnalano sei ritrovamenti a Parma avvenuti tra il 1948 e il 1950 cinque sepolture tra le odierne via Mazzini e via Garibaldi e una sesta tra via Repubblica e Borgo della Posta in un'area esterna all'ipotizzato perimetro dell'insediamento romano la scarsità dei materiali disponibili e la natura sostanzialmente episodica dei ritrovamenti non permette a tutt'oggi ricostruzioni di insieme sulla natura dell'insediamento urbano o particolarmente probanti quasi nulla si riesce a sapere dell'ordinamento amministrativo di Parma sotto i Longobardi in occasione della ricordata controversia compiacenza per la definizione dei confini rispetto alle civitate viene menzionato il gastaldo immone che si confrontò nella circostanza con il suo omologo piacentino da Ghiperto i due rappresentavano nella lite le curte serege dei due centri vale a dire il complesso dei beni fiscali a cui il gastaldo era per ufficio proposto la contesa confinare venne per noi fissata dal documento dell'epoca del re per Tarito tuttavia si ricava come essa avesse avuto origine in realtà addirittura durante il regno di Adalo Aldo e avesse conosciuto un momento di ripresa ancora ai tempi di Ario Aldo il fatto che per Parma sia citato solo il gastaldo e mai un duca ha indotto più di uno studioso ad avanzare l'ipotesi che Parma non avesse almeno al tempo di Immone alcun duca e che nelle funzioni di questo fosse ormai subentrato il gastaldo tuttavia per quanto la concettura non sia di per sé né impossibile né implausibile il suo accoglimento rimane difficile per il carattere isolato della testimonianza se un ruolo precipuo costitutivo di una specifica identità è da individuarsi per Parma durante i due secoli di vita del regno Longobardo in Italia ci pare che esso possa essere scontrato essenzialmente nell'adempimento di funzioni caratterizzanti in seno all'organizzazione territoriale del regno in continuità con vocazioni tradizionali in primo luogo nel rapporto con la trama degli assiviari regionali appunto come vi specificavo prima sempre importantissima la questione degli assiviari delle vie di comunicazione delle infrastrutture nelle fonti tardoantiche e altomedievali Parma si segnala infatti soprattutto per la sua collocazione lungo importanti strade che erano fondamentali per i collegamenti transappenninici già in epoca romana come testimoniato tra l'altro dallo zelo di diversi imperatori per la loro manutenzione si è già ricordato lo sviluppo che in epoca Longobarda conobbe la via che prese poi il nome di Francigena che attraversa il Parmense Parma era del resto al centro di un crocevia particolarmente significativo con l'asse nord-sud che univa le regioni padane del regno alla Tuscia e ai ducati di Spoleto e Benevento e le aperture occidente verso la costa toscoligure e a oriente verso la fascia confinare con l'esarcato sembra che già nei primi tempi del regno il cruciale corridoio verso la Tuscia attraverso l'appennino parmense piacentino fosse protetto da un sistema di fortificazione incardinato sul castello castellum persicum sul castellum berteradi e sul castrum nebla per i quali è stato proposto un'identificazione rispettivamente con la persica o montata dell'orto con castello di Scipione tutte località a nord-ovest di senso maggiore nella bassa vera Stilione e con castello di Solignano o il vicino monte di Sant'Antonio in Valtaro oltre a questa funzione già di per sé qualificante legata al dispiegarsi degli assi stradali Parma appare esaltata in epoca Longobarda dalla propria collocazione a ridosso della frontiera con i territori imperiali del Ravennate in un contesto dunque politicamente delicato e aperto ai vari flussi che si svolgevano tra le due distinte sfere politiche e culturali nell'attesa che ulteriori progressi nella conoscenza delle dinamiche dell'area parmense da questo specifico punto di vista possono giungere da nuovi dati archeologici la funzione limitanea della città e del suo territorio emerge con buona evidenza già dalle scarse testimonianze letterarie e documentarie solo specifiche verifiche archeologiche potranno confermare o modificare quanto è qui noto circa la permanenza almeno per tutto il primo trentennio del settimo secolo e la conformazione di un sistema di fortificato bizantino sull'Appennino a sud della via Emilia e a ridosso dei territori parmensi con lo scopo di presidiare i principali itinerari che collegavano i possessi imperiali unendo la costa tiranica e l'introterra fino a Tortona con i Ravennate castelli bizantini sono stati individuati a Castellarquato o forse nella vicina castellana a presidio della zona collinare a occidente del Taro e a Nebla a oriente dello stesso fiume probabilmente per sbarrare all'altezza di Fornovo la strada tra Parma e Luni e ancora sull'Appennino a Turris in Valdivona per controllare il transito verso le regioni costiere attraverso i passi di Centrocroce del Bratello a Corniglio a est del Passo della Cisa e a Bismantova a tutela delle piste che da Reggio si spingevano verso Sarzana per concludere con Filattiera e Sorgnano Massa e in stretto accordo con i casta di Monteveglio e di Ferronianum presso l'Odierna Pavullo questo complesso di fortificazione dovrebbe essere crollato sotto i colpi dei Longobardi tra il 612 e il 628 ma ancora agli inizi del VII secolo Parma risultava esposta al pericolo di incursioni degli imperiali se è vero che come riporta Paolo Diacono probabilmente attorno al 601 l'esarca a Callinico riuscì a catturare grazie a un colpo di mano messo in atto dal Patrizio Gallicino addirittura una figlia del re Agilulfo e suo marito Gudescalco traendoli da Parma a Ravenna la liberazione dei due prigionieri ebbe luogo solo un paio d'anni più tardi ad opera del successore di Callinico Smaragdo in seguito a trattative avviate dopo una vehemente offensiva a Longobarda che aveva provocato la caduta di Verona di Mantua di Brascello e del Castrum Quad Vulturina Vocatur da alcuni identificato con Viadana la sventuata principessa tuttavia poco dopo essere rientrata a Parma morì di parto la duplice funzione che costituì un motivo di identità di Parma quale crocevia stradale e centro prossimo alla frontiera tra differenti ambiti geografici politici culturali appare infine sintetizzata in modo quasi esemplare da un ultimo documento la promissio di restituzione territoriale che Carlo Magno avrebbe fatto a Papa Adriano I nel 774 e che secondo il Liber Pontificalis avrebbe ricalcato un precedente impegno assunto da Pipino con Stefano II nella promissio Carolina il Franco si dichiarava pronto a riconoscere le pretese del pontefice su di un complesso territoriale che egli si impegnava a cedergli dopo averlo strappato ai Longobardi il cui confine settentrionale doveva correre lungo una linea che univa da ovest verso est l'unia a Monselice passando per Surinianum identificato con Sorgnano Massa o Filattiera il Bardone Berceto Parma Reggio e Mantua la promissio non ebbe in realtà nessuna traduzione concreta ma è significativo come nella prospettiva del papato il parmense continuasse a godere ancora il tramonto del regno Longobardo e nel momento dell'avvento della nuova dominazione carolingia di una centralità quale punto di snodio di importanti itinerari di interesse per Roma e potesse altresì venire identificato per un'ennesima volta come un'area di frontiera e con questo noi abbiamo concluso la lettura di Claudio Azzara Parma nell'Emilia Longobarda pubblicato su retti medievali nel 2004 in descrizione trovate il link per scaricare il pdf e vi invito a iscrivervi perché finite le vacanze di Natale quindi verso la prima decada di gennaio riprenderemo la lettura di Paolo Diacono perché ormai ci rimangono soltanto tre libri il quarto il quinto e il sesto andate a recuperare il primo il secondo e il terzo che sono sempre su questo canale quindi noi ci vediamo nel 2022 buon anno buone feste e buona continuazione ciao a tutti ciao a tutti